eccoci ci siamo siamo live ciao a tutti ragazzi sempre orari improponibili in queste live forse questo è più normale comunque ciao a tutti oggi live serale e non mattiniera perché perché sì perché andata così la giornata andato così il periodo ma non volevo saltare queste live anche perché in realtà appunto non volevo perdere il filo prima di partire perché andrò via una decina di giorni e quindi già qua è difficile avere continuità quindi non perdiamo tempo e facciamo qualcosa andiamo avanti perché in realtà il sito va avanti il sito va avanti e oggi voglio con voi vedere un paio di cose che in realtà sono molto molto così interessanti per me oggi vedremo due cose nello specifico una è attenzione l'idea del logo che sto cercando di sviluppare forse l'ho accennato già nella scorsa live avevo mezza idea di fare un logo per il sito questo sito a cui lavoriamo in queste live che è lavoronomade.it avevo avuto un'idea che però poi si sa quando si ha un'idea realizzarla è tutto un altro paio di maniche morale della favola ho provato a fare qualcosa in due versioni quindi avremmo modo anche di provare ben due versioni diverse portiamo dalla 1 direi e poi in realtà appunto adesso sto cercando di farmi fare una review da qualcuno esperto di questo genere di cose e già mi hanno detto qualche criticità ma non andiamo oltre anzi partiamo subito e vediamo la seconda cosa che vedremo oggi in realtà andremo avanti e proveremo a vedere qualcosa per quanto riguarda il discorso mappa che è quello che è rimasto più indietro di tutti perché appunto vorrei provare a giocare con una libreria che ho già provato iniziato a vedere a caso in realtà ho scelto la prima che ho trovato per gestire una mappa con google maps e proveremo a interagirci così vediamo anche un po' come funziona questa parte qua partiamo dunque e torniamo al nostro sito che rispetto all'altra volta tac eccolo qua ha un logo nuovo chi l'avrebbe mai detto allora questo è il logo questo che vedete qua in alto a sinistra che questa è la primissima versione che ho fatto così con Figma Figma che però questo qua Figma è uno strumento utile per fare design per fare design di siti per fare mockup per fare delle demo per fare poi tutta l'interfaccia grafica da poi portare sul codice perché qua appunto su Figma non so se abbiamo già visto ma si ha la possibilità di avere anche gli attributi la descrizione di attributi CSS eccetera quindi qua si fa qualcosa e poi è più facile portarla nel sito web quello che qua sto facendo invece è il logo qua è una versione ultima che fa abbastanza schifo però il discorso è che si fa qua e poi si può esportare come SVG l'SVG è un formato che permette di avere un file un'immagine costruita con delle figure geometriche e questo la rende poi super gestibile come dimensioni, colore si possono fare un sacco di cose belle con gli SVG tra l'altro non è questo comunque vabbè è descritta in questo modo con delle coordinate una specie di vista è un linguaggio per scrivere delle immagini da poter utilizzare poi nel web per esempio e in questo caso appunto quello che è venuto fuori è questo logo qua questo logo qua che vedete ha due caratteristiche l'idea è questa ma è molto semplice lavoro nomad è il sito LN la L rappresenta un PCI portatile aperto è in teoria con lo schermo illuminato ma questo non lo so ancora e l'idea è far capire che è un portatile che non è facile e poi la N invece ha questa palma anche qui molto da rivedere magari però che ci dice che si lavora ma si è anche magari sotto una palma ovviamente sotto stereotipato a 1000 tra l'altro non è detto che riesca a fare questa live senza essere interrotto bruscamente dal resto della famiglia soprattutto perché li disturbo comunque questa è la prima idea mentre una seconda versione ma cambia veramente veramente poco ma io sono sul sito giusto una seconda versione che cambia veramente poco è questa qua questa qua praticamente rispetto alla prima non ha la luce del monitor ha dei tratti leggermente più marcati ma è proprio un secondo esperimento buttato lì quello che mi è stato suggerito di fare di ridurre il più possibile all'essenziale gli elementi perché poi questa è un'immagine che va in qualche modo capita a colpo d'occhio anche per esempio in una favicon qua in alto piccolina qua cioè dovrebbe essere proprio una cosa minuscola ho già visto che in realtà così piccola in teoria tra l'altro l'avevo messa eccola qua con lo stesso colore vabbè ma questo è proprio un esperimento ma si vede che si perde cioè a malapena si capisce che è una LN non è detto che riuscirò a uscirne in un modo vincente per avere un marchio super esclusivo ma in realtà quello che conta è che mi piace un sacco l'idea di avere il portatile e la palma e sono curioso non so se riuscirò a uscirne ma fatemi sapere poi nei commenti se avete idee migliori su come rendere questa cosa più fruibile se vi piace comunque l'idea secondo me è carino il fatto che sia descrittivo poi del progetto del sito eccetera quindi questo è un po' il luogo su cui lavorerò ancora appunto ci lavorerò qua su Figma perché tanto vorrei tanto annullare tutto lo schifo che ho fatto l'ultima volta ma ormai è tardi chissà se c'è uno storico vabbè comunque la cosa carina di Figma appunto che qua si lavora su su dei rettangoli su delle figure geometriche però alla fine si ha appunto un file un svg e l'svg praticamente cosa permette di fare un svg che poi io uso in questo modo qua vedete qua ho il logo ln e il logo ln2 che sono per me due componenti react ma che esportano semplicemente un svg a cui eventualmente posso passare delle classi delle classi semplicemente per stilizzare in qualche modo questo svg se andiamo a vedere come lo richiamo infatti il mio svg ha un'altezza una larghezza e un testo se io qua lo metto per esempio rosso io lo go rosso perché questa non è un'immagine basta è una figura geometrica resa un po' resa un po' così modificabile comunque stilizzabile come elemento geometrico grazie Angie a cui piace a cui piace il logo ci dobbiamo ancora lavorare magari un minimo però sono contento che piaccia l'idea e quindi e quindi appunto qua posso mettere che ne so posso mettere invece che un'altezza una larghezza di 24 li metto 48 e boom super logo però vedete rimangono rimangono le le proporzioni e tutto proprio perché c'è dietro c'è dietro delle ci sono dietro delle coordinate che fanno sì che io allarghi tipo solo appunto questa view box mi sembra si chiami però dentro tutto rimane così come deve essere quindi è molto figo poi in realtà si possono cambiare anche solo singoli colori si possono fare un sacco di cose è appunto la rappresentazione geometrica del logo e non è una semplice immagine questo permette tutta una serie di customizzazioni detto questo sul logo oggi andiamo avanti su quella che è invece il discorso mappa perché se andiamo qua incredibilmente c'è una mappa anzi addirittura la mappa di fortalezza dunque che cosa abbiamo qua cosa vorrei fare qua cosa ho fatto e cosa vorrei fare in questa pagina questa pagina deve essere quella in cui si vede una bella cartina magari dell'Italia adesso magari cambiamo il punto di partenza un minimo stilizzata col sito adesso parleremo anche di quello con sopra dei punti in cui appunto andare a indicare quali sono dei posti in cui lavorare oppure città recensioni collegamenti video che faccio sui posti e poi quelli che saranno invece i consigli della community sui posti questa è l'idea banalmente per iniziare ho pensato metto un google maps una qualche libreria che mi permette di usare con react google maps e poi mi ci diverto un po' e oggi proviamo a fare questo adesso vi faccio vedere cosa ho installato cosa ho messo qua per avere questo e proveremo qua angelo grande giuppi uno di pochi wannabe dice dal nome con figli e famiglia a seguito finché siamo single siamo capaci tutti grazie grazie mille angelo si poi in realtà è sempre una grande esperienza a qualunque età e con qualunque in qualunque contesto però si coi figli deve essere divertente è impegnativo è impegnativo adesso infatti domani mattina io in realtà alle 6 devo prendere un pullman e un treno tutto questo col bambino con uno zaino stracarico zaino che però stracarico anche perché c'è il nuovo drone questo così vuol dire che è bello di essere nomadi digitali che si fanno un sacco di cazzate nerd e quindi è pesantissimo comunque questo non c'entra niente e quindi in realtà devo anche rivedere un attimo soprattutto per il mega viaggio che faremo a settembre di più mesi devo rivedere tutto il discorso zaino ma ci farò anche un po' video un po' live comunque ne chiacchiereremo così anche se avete pareri sono ben accetti quindi grazie Angelo grazie Angelo sì è una bella sfida però è sempre bello cioè è bello farlo da single e andare a fare surf o coi figli cercare dei posti che vadano bene per tutta la famiglia comunque se non sapete dove sono questi posti ci sarà il lavoro nomade che bella pubblicità allora quindi dicevamo abbiamo questo bellissimo fortalesa questo pacchetto react oggi semplicemente anche perché poi non ho tutta questa autonomia mi sa però in realtà vorrei impostare qualcosa facciamo quindi qua cartina e proviamo qua a mettere una lista di posti che abbiano una corrispondenza sulla mappa vediamo un po' come funziona il giro dunque io che cosa ho messo per fare questa mappa per mettere questa mappa ho utilizzato questo pacchetto qua che si chiama react google maps api che però ripeto è più o meno il primo che ho trovato sono sincero non mi sono fatto una grande una grande ricerca anzi adesso andiamo a vedere anche se è un pacchetto valido andiamo a vedere se è un pacchetto valido se è aggiornato sta stelline ne ha tante aggiornamenti due mesi tre mesi sette giorni fa ok dai è abbastanza vivo come pacchetto quindi direi che ci può stare provare a inserire il login un cerchio che lo circoscrive eeeh si può provare adesso purtroppo qua l'ho rotto tra l'altro lo rifarò però se vogliamo provare al volo che noi siamo poliedrici buh non c'è più la cosa bella che tu vabbè adesso togli non fare il cerchio pieno ma fai solo ma fai solo il il tondo non lo so fare forse devo togliere il fill tolgo il fill giustamente forse devo mettere lo stroke ah forse si aspetta vabbè 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 tolto che qua ho rotto la n però si il cerchio potrebbe essere eh angelo capito angelo il cerchio potrebbe essere una soluzione magari rendendolo un po' più incastreto ci lavorerò vi farò sapere vi farò sapere però adesso già è un casino mettersi al computer ma mettersi a fare roba di grafica per me è troppo hard meglio mettere codice angelo scrive sono un collega software engineer grande angelo grande angelo sei anche tu un nomade un wannabe nomade lavori un po' smart un po' no dici che fai che qua se non facciamo se non ci facciamo compagnia tra tra colleghi è un casino quindi diciamo sto pacchetto tutto sommato si può usare in qualche modo in qualche modo è vivo quindi va bene usiamo questa almeno per oggi tanto poi sono tutti simili quello che ho fatto è stato installare questo pacchetto e farci due cose vabbè la prima questo qua è il pacchetto appunto che ci da due due componenti lo had script e google map lo had script in realtà penso che gli vada a caricare tutta una la libreria di cose sue non starei neanche a vedere che fa tanto non ci interessa cioè detta proprio così non me ne può fregare di meno di cosa fa però gli passo la key la key del mio google maps che ho caricato tramite file env non ve la faccio vedere però il discorso qual è che i dati sensibili tipo le chiavi tipo le password qualunque cosa vanno messi a parte in the file env non vanno scritti nel codice qua in chiaro ovviamente e non vanno poi mi spero di avercelo qua ma qua mi sa che c'è un file standard ma è un punto local aggiungiamoci il punto env perché next usa il punto local comunque non vanno messi su git insomma un po' di cose di best practice di dati sensibili quindi qua c'è la variabile d'ambiente in cui ho messo la mia chiave di google maps questo next public va messo per far sì che questa chiave questa variabile d'ambiente per next sia disponibile sul front end questa è una roba di next con questo quello che mettete in env lo vedete anche direttamente sul front end se no solo nel back end chiuso questo google maps qua invece cosa gli ho passato gli ho passato le coordinate del centro che ho preso a caso dall'esempio e ci hanno portato in questo bellissimo posto in in messico dov'è in brasile in brasile siamo in brasile e quindi adesso cambieremo magari con l'italia e gli ho passato poi vabbè container style che gli dà le dimensioni del container e va bene invece questo vintage json l'ho preso pari pari da qua google map style praticamente c'è uno styling wizard di google no che ti permette di fare di stilizzare google maps io in realtà ho fatto così e poi ho fatto finish e mi sono preso il json però in realtà su google maps si può veramente fare un sacco di cose cioè si può stilizzare tutto quindi magari lo faremo io adesso non l'ho fatto e va bene così angelica si mi pronti per lezioni di diventare wannabe digital novel lo stiamo facendo queste queste sono lezioni poi magari mi piacerebbe fare anche dirette perché poi mi piace chiacchierare così a braccio sul lavoro dalle moto in generale non solo sullo sviluppo web ma qua stiamo a sviluppare stiamo a sviluppare quindi e diciamo quindi mi son preso qua sto stile elettroma giusto perché mi piaceva ma sarà poi da da dargli un senso ora però prendiamoci le coordinate dell'italia ora io non ho idea di quale sia il modo migliore ma in realtà quello che faccio io di solito vengo qua scrivo un paese e poi mi prendo le coordinate da qua questo dovrebbe bastare avanzare però se io volessi fare tipo così che ne so così vediamo se basta così allora vengo qua tac così a naso le invertirei sarà sicuramente un errore vediamo vediamo dove si va così fortalezza cioè qua non si scappa una fortalezza ma io l'ho messa sì forse l'ha presa forse l'ha presa semplicemente ho fatto una cavolata e invertirla lng e l'hat teniamo un po' guarda che sono sbagliatissime queste coordinate dove siamo ah 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 in realtà siamo giusti ma abbiamo un grossissimo livello di zoom probabilmente dunque dobbiamo vedere quindi come dargli un livello di zoom accettabile come si dà quel livello di zoom la zoom 10 zoom 10 proviamo a mettere 5 5 dicevo come è cambiato tutto ah meglio meglio facciamo così mettiamo Italia mettiamo Italia direttamente poi aumentiamo lo zoom quindi mettiamo questa qua proprio che mi sono sempre divertito lavorare con le mappe non so perché cioè divertito un po' allora vediamo un po' che abbiamo combinato niente questo cazzo di zoom è sbagliato 5 e perché è storta perché non è così e qua è così come vai mi sa che sto metodo sto metodo non funziona cambiano sempre ogni volta che fai le fai ci cambiano vabbè comunque penso che per oggi ci trarremo le prime coordinate che trovo che hanno un qualunque senso di qualunque tipo intanto io sto cliccando così a casa bello bello sì sì però anche 6 ok ci piace un pelino sotto però direi che abbiamo abbiamo guadagnato qualcosa perfetto angio purtroppo il mondo corporate mi ha fregato maledetto mister reset mister reset mister reset bella chiacchierata tra l'altro se chi non l'ha vista un paio di live sul suo canale una da solo con lui e una guida un altro freelance molto molto interessante aspiro a fare il freelance e il tempo libero da famiglia lavoro gli essay di Paul Graham mi hanno ispirato eh belli mamma mia mamma mia anzi rendiamo partecipi bella che bella cosa che hai tirato fuori Paul Graham ho fatto questi tss in realtà poi non è che ne abbia letti milioni l'ho conosciuto tramite mister rip però ne ho letto qualcuno che è veramente pazzesco pazzesco vi consiglio di venire qua mi ha fatto venire un sacco voglia di provare a ragionare in questo modo sulle cose scrivere però qua parliamo di un altro livello e c'è qua quello bellissimo quello che da cui ero arrivato su consiglio di mister rip non so se angelo tu ti ricordi quale sia tipo come non come essere felice o cosa fare nella vita comunque in quel punto c'era anche questa cosa delle non è che basta che non lavori o che che hai tempo libero che ti metti in proprio comunque tutto va analizzato con con spirito critico e in questo esse veniva proprio fuori quindi consiglio consiglio Paul Graham grazie Angelo e il mondo corpore capisco ci sono stato dentro anch'io un bel po' ci sono stato pensa anche come freelance nel senso che ero freelance ero da remoto ma collaboravo con IBM e quindi era strano poi ero trattato veramente in maniera diversa però capisco ti dico aspiro a fare freelance il tempo libero sì ma ci sta cioè nel senso uno secondo me deve fare quello quello che preferisce fare se il lavoro corporate comunque ti fa stare bene anche per tutto quello che c'è di buono nell'essere dipendente nell'essere nel mondo corporate non sono con gli anni ho capito che non è proprio bianco e nero però sicuramente provare a fare le cose anche soprattutto senza dover rinunciare una delle due cose penso sia penso che sia un bel modo di provare how to do what you love mi sa di sì mi sa proprio di sì mi sa proprio di sì adesso io l'ho aperto penso di sì 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 penso di sì adesso non vorrei dire una cavolata ma grande 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 tra l'altro penso me lo me lo rileggerò molto molto volentieri perché mi aveva molto colpito perché perché andavo anche un po' contro alcune cose che pensavo davo per scontate quindi assolutamente 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 belle belle letture grazie grazie per questa chicca bene ma noi siamo tristi e programmiamo questo è un po' il succo del ma in realtà ecco per esempio io sto qua a programmare c'ho sonno c'ho la sveglia tra 5 ore non lo so però programmare mi diverte questo progetto è un progetto che nessuno mi obbliga a farlo e quindi se lo faccio vuol dire che è una cosa che mi piace fare e mi piace anche star qua a raccontarlo a parte che c'è Angelo che con cui si chiacchiera molto volentieri i begli spunti quindi è anche bello così ma anche da solo è comunque un modo per fare le cose così anche un modo per imparare a comunicare meglio a non avere paura di niente sti cazzi di fare figure di merda bello bello quindi fare cose è utile a prescindere dai risultati fare cose è sempre bello quindi fare le cose fare una mappa fare una mappa quello che vorrei fare io adesso anche solo una ad esempio è mettere un pallino facciamo a Torino per esempio e avere qua una corrispondenza tra il pallino e questa cosa qua non ho idea di come farlo ma in realtà sono sicuro che varie documentazioni ci aiuteranno dunque questo react bla 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 ci dice ci dice no io so che queste cose si chiamano marker quindi bene o male sospetto che ci sia un marker proviamo a vedere cosa succede a creare un marker da mettere sulla sulla cartina allora vedi qua infatti dice dentro questo google maps mettici dei child come marker sinfo windows eccetera quindi adesso ci mettiamo un bel marker cosa vuole? vuole la position come position proviamo qua col solito metodo empirico di cercare una città andarci sopra e prendere questo numerillo qua andiamo qua tac ma se io faccio così proprio brutto adesso per provare lat lng tac vediamo se per sbaglio mi ha messo il marker mi ha messo il marker mi ha messo il marker perfetto abbiamo il marker abbiamo il marker grande ciao ciao un saluto sempre bello un amico che saluta e che cazzo sto facendo allora vediamo un po' che metodi abbiamo abbiamo long click che potrebbe essere un nostro amico non so se c'è una best una best practice per fare questa cosa qua perché adesso ci andrei brutalmente se ci clicco sopra mi illumini qualcosa però in realtà per esempio l'info window non si può avere un esempio di questa cosa faremo tutti molto prima ma molto 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 qua non c'è niente qua non c'è niente main feature official docs uh qua vuole che gli metto i miei dati carino e non te li metto invece non te li metto eh ah però vediamo vediamo se abbiamo siti che usano questo ci danno degli spunti domino in vendita bah diciamo che forse si poteva fare meglio questa documentazione eh andiamo ah questo qua mi ispira già ok ok questo ha questa cosa qua che potrebbe anche con l'aggregazione quindi ti dice qua ci sono tre cose e se ci clicco sopra mi fai vedere qualcosa bello bello angelo scrive mio preferito you weren't meant to have a boss manifesto per i freelance e start up un saluto keep going on grande 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 grazie mille angelo anzi me lo vado pure a mettere già qua eh you weren't meant se non vorrei dire è una cazzata ma il titolo è talmente bello che potrei averlo visto e letto ma non me lo ricordo forse perché l'ho letto un po' di tempo fa quindi lo recupero molto molto volentieri grazie mille angelo grande sono proprio contento di sentire altre persone che alle 11 di sera sono comunque galvanizzati da discorsi di programmazione mondo freelance quindi bene bene così in bocca al lupo per la tua di esperienza da freelance che so che è un casino ma mi sa che che sei già bello bello indirizzato alla grande recuperatevi tutte queste letture raga perché sono delle bombe eh dicevamo dicevamo l'esempio qua l'esempio qua tra l'altro aveva un github ma lo piglio da qua me lo piglio anche se chissà che cosa è fatto facciamo finta che sia che sia utile per noi vabbè ma non voglio andermi a leggere il codice cioè se c'è velocemente qualcosa di interessante bene se no qua goal maps poi fa marker clusterer ok che secondo me è la cosa che li unisce in in tanti clusters però però frega niente voglio vedere i marker vabbè qua c'è il marker builder qua no per quello che ci serve oggi sta roba è troppo è troppo costruita poi ci sta è bellissimo però no non è quello che ci serve facciamo qualcosa di basic iniziamo a fare qualcosa di basic che cosa posso mettere qua posso mettere animation cluster icon label tipo label turin qua gli ho messo una label ok io vorrei che solo un click facesse qualcosa cosa gli possiamo fare solo un click possiamo options option cosa cosa vediamo che option vuole è sempre le stesse vediamo qua label 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 si 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 no non da più errare vediamo un po' vediamo un po' che cosa abbiamo scritto vediamo che cosa abbiamo aggiunto mi dispiace un po' mettermi qua in diretta a fare per rigolette tentativi però volevo andare avanti insieme a voi senza troppi tanto si è ralentato tutto tantissimo chissà se se il mio computer che è troppo caldo lo sostituisce quindi c'è una sola label noi facciamo così dai diamo un senso a questa cosa cost eh mi sa che internet ci sta un po' abbandonando chissà forse sto andando a scattissimi forse sto andando a scattissimi mi dice mi dice l'amico youtube però è così vabbè ma adesso la facciamo solo un ultimo esperimento e diciamo che va bene così vorrei vorrei mettere qua di fianco una bella scritta turin ok e poi li mettiamo così questo è solo per dare un esempio di interazione ma direi che se internet mi deve andare così male meglio lasciar perdere vuol dire che non c'è né e qua li mettiamo turin is turin clicked click turin e facciamo uno use state sto facendo uno stato in cui gli dico se è turino è stata cliccata o meno non è stata cliccata di base quindi di base qua gli mette un bel controllo oddio cosa ho fatto gli mettiamo un bel controllo e gli diciamo il storino clicked allora vg red 500 altrimenti vg white quindi se non è cliccata mettigli pure places e poi facciamo che quando clicco qua un click click turin e troppo così facciamo un'interazione tra il sito facciamo un'interazione tra diciamo qualcosa di esterno alla mappa e la mappa in realtà appunto facciamo il contrario nel senso che se qualcuno oddio oddio cosa diavolo è successo cosa ho fatto l'ho messo fuori brande l'ho messo fuori dal componente lo state si mette nel componente react non fuori a vagare da solo poi dovrebbe parlare di react degli hook eccetera ma non lo faremo allora io qua c'ho turin qua c'ho turin se ci clicco bam questo adesso è messo è messo così fuori ora cosa potremmo fare al contrario questo era solo per far vedere appunto che se ci clicco qua posso fare anche un click ci sarà un click fuori on click on right click on click volcendo vabbè non c'è l'idea è che se clicco su un altro magari me lo toglie ma va bene potremmo fare giusto come ultimo esempio perché appunto io qua vorrei una lista quindi immaginate che io qua invece che avrei messo solo turin metto una lista invece che avrei messo questo brobrio facciamo anche noi un po' più spostato poi facciamo che sta roba qua è alta 2.96 e che facciamo che c'è un picotto mi piace di più ok mi piacerebbe allora vediamo marker c'è un modo per portarlo al centro ah potrei usare queste coordinate ma facciamo così facciamo che quando clicco qua mi porta al centro della mappa su Torino eh anche qua adesso lo faccio veramente male ma voglio dire basti grazie costuring diventa questo poi faremo tutte le città sarà tutto dinamico però ragazzi questo dinamico c'è veramente niente ok qua abbiamo detto se clicco su qua mi mette questo rosso va bene adesso voglio fare che quando clicca qua il center cambia quindi io direi che anche center cords io direi che anche il center diventa uno stato quindi non è più una variabile con un valore ma è uno stato che io posso cambiare dinamicamente set center use state center cords facendo così quando parte lui di default come coordinate di centro gli mette queste qua che sono quelle di prima quando però clicco qua sulla mia scritta torino tac onclick set center torino quindi se io adesso sono qua che vuoi più no non so se funziona questa cosa però quando clicco qua torino lo mette in mezzo eh funziona io vado qua dicendo ma dove era aspetta ah non funziona non funziona più che strano cioè probabilmente funziona sta cambiando perché praticamente ah se io inizio se io porto così sono su center quando mi sposto però adesso il center l'ha messo giusto però bisognerebbe anche forse dirgli qualcosa magari c'è un metodo per dirgli torna al centro oppure vai a queste coordinate non so se può esserci qualcos'altro qua oppure se c'è qualcosa qua un center change quando cambia il centro si può fare qualcosa va bene questo è sempre bisogna sempre comunque studiarsi poi i pacchetti che si usano non lo so non lo so ci devo ci devo pensare cioè questa cosa non me l'aspettavo cioè che se io cioè mi aspettavo che mettendogli un centro si comportasse sempre cioè si centri sempre invece non è così però possiamo anche leggere qualcosina center bello non c'è niente bene ma non benissimo vabbè comunque direi che center perché initial map center è questo che mi vediamo se c'è qualcos'altro che vuole questo tipo di anchor can be questo è l'infobox no questa è la position dell'infobox ma tanto c'è attenzione c'è un esempio ah è uguale l'api key ah non te le do vabbè me le studierò con l'api key piuttosto comunque l'idea potrebbe essere questa che io sono qua clicco sulle cose e me le mette al centro della mappa quando li giro e e in più appunto posso interagire qua magari appunto adesso l'infobox io non l'ho messa perché non so non ho idea di come mettere un infobox cioè giusto per chiuderla qua voglio sapere che cos'è un infobox voglio assolutamente sapere che cos'è un infobox chissà cos'è c'è fai qualcosa ah no allora infobox vuole un figlio poi te lo metto poi voglio capire cosa fai ciao a meno che l'infobox non sia il figlio del Mark ma capite che io non posso alle undici e mezza di sera dire una frase come a meno che l'infobox non sia il figlio del Mark oddio ha messo l'infobox questo è poco masico aspetta ti metto un robo qua con una X in un posto completamente a caso o al centro del mondo al centro del mondo vabbè peccato l'infobox in realtà l'infobox sarà poi da metta non so se ha delle coordinate position e tu stai a touring come tutti no no lui vuole ti fa attimo cos'è che non gli è piaciuto a lui la position così non mi piace ma guarda va bene va bene allora non te lo do niente niente infobox la prossima volta direi che va benissimo così dunque per la prossima volta compiti a casa in questa settimana che non lavoro non ho il computer neanche con me per dove vado farò cose ma non propriamente di programmazione probabilmente me la studio un po' la mia idea in questa pagina potrebbe essere avere la mappa qua e qua un elenco di una lista un po' carina dei posti che magari si aggiorna in base al punto in cui mi trovo questa è un'altra cosa che vorrei fare cioè se mi trovo qua tipo in Germania prendendo i bordi io possa fare una ricerca cioè possa filtrare questa lista in base a dove sto inquadrando in quel momento questa è una cosa che mi piacerebbe fare devo capire come farla ma in qualche modo userò le coordinate dei confini di quello che è controllando se in un posto rientro o meno quindi cosa da fare questa che vedremo nella prossima live vedremo già bozzate perché non voglio stare troppo in live a far perdere tempo ma a me piace mostrare tanto poi il codice è sempre sul github che trovate in descrizione per riprenderlo adesso anzi committo prima che mi dimentico e quindi appunto avere una lista lì e poi per ogni 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 pagina in realtà sarà installed ma ogni immagine sarà ogni 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 sito sarà poi un piccolo articolo con magari qua ci sarà una scheda riassuntiva piccolina qua così che io faccio segno con le mani ma voi non potete dare le mani vabbè però appunto si potrà poi cliccare andare su una pagina si è stante abbastanza classica informativa su quello che è il posto quello che ci dicevamo se c'è il video non c'è il video insomma un po' di solite cose bene bene dai comunque sono contento perché abbiamo comunque chiacchierato come vi dicevo domani mattina parto domani mattina parto si va in sud Italia si va un po' in giro per parenti anche appunto per fare un po' di saluti perché dall'inizio di settembre partiremo per per un po' di mesi andremo via quindi vogliamo così fare un po' di i patriottici patriottici vabbè tra l'altro bisogna anche poi votare a settembre porca misera quindi dovremo vedere anche quello ma questo lo scopriremo nelle prossime puntate io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato è stata una bella chiacchierata grazie a Angelo Angelica Giovanni e tutti quelli che poi seguiranno anche dopo spero tra l'altro questa è la puntata 10 di questa serie spero che sia utile per qualcuno a me piace tantissimo perché sto lavorando comunque a un progetto sto riuscendo nonostante tutto ad andare avanti e questo non sembra mai tanta roba vorrei dedicarmici di più ma va bene anche così però comunque 10 live il sito sta prendendo forma e va bene così va benissimo così agosto continuerò perché appunto sarò magari un po' mare un po' montagna ma ma siamo assolutamente produttivi perché poi queste robe mi divertono un sacco quindi grazie alla prossima puntata è